A Napoli continua il connubio tra amministrazione comunale e privati, uniti nel progetto volto a riqualificare il verde urbano della città. Questa volta è stato il turno di Piazza Vittoria. La collaborazione di Palazzo San Giacomo con l'associazione 100% Naples ha portato a dare nuova linfa alla piazza che ospita il monumento alla battaglia navale di Lissa e le due straordinarie statue di Francesco Ierace, rivolte verso la villa comunale. I giardinieri di 100% Naples, oltre ad aver piantato nuove specie arboree, hanno provveduto ad altri interventi come l'installazione degli impianti di irrigazione delle aiuole, la riqualificazione di tutto il manto erboso e la pulizia di panchine. In sinergia con la prima municipalità presieduta da Giovanna Mazzone, i lavori riguardanti la manutenzione ordinaria saranno sempre a capo dell'associazione. Oggi raccogliamo il frutto di un lavoro che come amministrazione municipale, in tandem con l'amministrazione comunale, stiamo portando avanti da quando ci siamo insediati. Questo partenariato pubblico-privato che ci permette di arrivare lì dove, nello specifico del caso della Municipalità 1, vede una mancanza di figura professionale per la cura del verde, ovvero i giardinieri. I progetti di riqualificazione relativi al verde cittadino sono un esempio molto valido di collaborazione tra pubblico e privato, da estendere anche in altri ambiti urbani. È questo che hanno rimarcato in Piazza Vittoria il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e l'assessore comunale all'ambiente, Vincenzo Santagada. Un esempio di una bella collaborazione tra pubblico e privato, con un impegno significativo perché garantiscono la manutenzione straordinaria, ma anche ordinaria, di tutta questa parte del verde cittadino. Quindi credo che questo sia un esempio importante di come la collaborazione tra pubblico e privato possa dare una risposta concreta anche ai piccoli problemi della città. L'associazione che ha avviato e ha completato i lavori, il 100% Neppols, che ha una sua organizzazione per quanto riguarda sia gli interventi straordinari che ordinari, e devo dire la verità, non hanno preso in affido solo Piazza Vittoria, che oggi inauguriamo.